carissimi pace del signore buona giornata a tutti quanti voi benvenuti a questo nostro appuntamento quotidiano stamattina leggeremo nel libro della genesi nel capitolo 30 i versi da 22 fino a 43 continua il racconto della vita di giacobbe e continua anche il racconto della relativa alla famiglia di giacobbe abbiamo visto come delle due mogli solo una lea stava dando dei figli a giacobbe mentre l'altra rachele essendo sterile aveva deciso di dare dei figli a suo marito per mezzo della serva il signore però ascoltò le preghiere di rachele ascoltò il grido anche di giacobbe e leggiamo al verso 22 che il signore si ricordò di rachele l'esaudì e la rese feconda tre cose importanti innanzitutto il fatto che dio si ricordò di rachele questo non significa che dio si fosse dimenticato sia chiaro significa semplicemente che egli al momento da lui stabilito intervenne affinché questa donna potesse ricevere la risposta di cui aveva bisogno e questo è un incoraggiamento per tutti quanti noi soprattutto quando pensiamo che dio si sia dimenticato di noi e questo avviene soprattutto nei momenti in cui le risposte sembrano tardare o meglio sembrano quasi non venire ebbene come rachele dovette aspettare anche noi in determinate circostanze siamo chiamati ad attendere ad attendere la risposta del signore possibilmente evitando l'errore che commise rachele che poi fu lo stesso che commise sara vale a dire di aggirare i problemi che si presentano e di aggirare anche la mancata risposta del signore usando dei metodi umani è opportuno se abbiamo affidato la nostra vita a dio o agire secondo i tempi e i modi che il signore ha stabilito e questo per evitare di avere sì le risposte che noi vogliamo ma averle nel modo sbagliato e quindi pagare le amare conseguenze il fatto che dio si ricorda di rachele ci incoraggia dicevamo quindi a aspettare la risposta del signore perché qui lasciatemi usare un'espressione virgolettata dio si ricorderà anche di noi e si ricorderà se noi saremo pronti a chiedere a bussare alla porta della grazia a presentare le nostre richieste infatti se è detto che dio le saudì vuol dire che rachele implorò supplicò si dedicò alla ricerca dell'intervento del signore e dio ci aiuti ci aiuti ad avere costanza nel chiedere a dio e nel presentare i nostri bisogni al signore il salmo infatti dice getta il peso tuo sul signore ed egli ti sosterrà quanti pesi dobbiamo portare credo che i tempi che stiamo vivendo sono così difficili che delle volte siamo aggravati al punto tale che ci sentiamo quasi abbattuti e in quei momenti cosa possiamo fare se non andare sulle nostre ginocchia implorare il signore e aspettare come dice un altro verso della bibbia in silenzio la risposta dell'eterno si ci aiuti il signore ad avere questa totale fiducia in dio ci aiuti il signore ad ascoltare l'invito che egli ci fa voi che siete afflitti travagliati venite a me e io vi darò riposo sì andiamo al signore anche questa mattina cari andiamo al signore con tutto il nostro cuore andiamo con semplicità andiamo con un cuore aperto con la nostra vita e non ci preoccupiamo perché il signore che non si dimentica dei passeri che non si dimentica dei gigli non si è dimenticato di noi e come provvede ad ogni altro suo figlio provvederà anche per ognuno di noi il signore quindi si ricordò il signore esaudì il signore la rese feconda vale a dire tolse quello che era l'ostacolo affinché rachele potesse avere dei figli e il signore agisce in questo modo egli non soltanto ci dona quello di cui abbiamo di bisogno e che nella sua volontà ma elimina tutti quegli ostacoli che non ci permettono di ottenere determinate cose ed è un tempo in cui di ostacoli tante volte ne troviamo tanti lungo il nostro cammino e delle volte sembrano addirittura insormontabili sono come quei monti che i pellegrini vedevano quando si stavano a propinquando a gerusalemme è scritto nel salmo nel salmo 121 alzo gli occhi verso i monti gerusalemme era una città infatti circondata dai monti e per i pellegrini che andavano nella città santa per celebrare il nome di dio quei monti rappresentavano un ostacolo difficile da affrontare anche perché spesso erano stanchi dal lungo viaggio ma il mio aiuto viene dal signore dice il salmista e il nostro aiuto viene da dio e dia quello che ancora oggi appiana il cammino dinanzi a noi e gli rimuove gli ostacoli che si frappongono tra noi e le risposte di cui abbiamo di bisogno e gli ha innanzitutto rimosso l'ostacolo per eccellenza vale a dire il muro rappresentato dai nostri peccati e se il signore non ci ha rifiutato il suo figlio dirà paolo nello scrivere romani non ci donerà egli ogni altra cosa di cui abbiamo di bisogno se voi disse gesù siete capaci di dare buoni doni ai vostri figli eppure siete malvaggi quanto più il padre celeste darà buone cose a quelli che glielo chiedono fratelli sorelle ricordiamoci abbiamo un dio che non si dimentica abbiamo un dio che esaudisce abbiamo un dio che rimuove gli ostacoli che potenti a rimuovere ogni ostacolo confidiamo in lui affidiamoci a lui deponiamo davanti a lui i nostri pesi ancora questa mattina coraggio andiamo avanti con l'aiuto e la forza che viene dal signore e non ci dobbiamo non ci dobbiamo preoccupare essere ansiosi per quello che dovremo affrontare perché col signore noi avremo la vittoria perché il nostro condottiere cristo ha già vinto per noi nel mondo risse gesù avrete tribolazione è vero ma fatevi animo io ho vinto il mondo cari nella grazia che il signore ci accompagni ancora in questa nuova giornata e ci aiuti con la sua mano potente ad affrontare e superare ogni ostacolo pace del signore a tutti quanti voi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti